In Midway per la regia di John Rial, alias Giovanni Marzagalli, regista rivelazione Globby Toro 2012 con il suo primo film, interpreto Mattia. Mattia organizza questo fine settimana in tenda in montagna con questo gruppo di amici per staccare un po' dallo stress quotidiano, ma tra presenze inquietanti e fenomeni e WP capiranno ben presto che in quel posto, in quel bosco, c'è qualcosa di strano. Una via di mezzo a metà strada tra la realtà e la non realtà, la realtà e l'aldilà renderà questo weekend assolutamente indimenticabile. In particolare in Midway si parla dei fenomeni EWP, Electronic Boy Phenomena, che sono questo fenomeno paranormale che consiste nella registrazione su un nastro magnetico o su porti digitali di suoni, di voci attribuite alle anime dell'aldilà che tentano di mettersi in contatto con noi. E proprio una di queste anime entrerà in contatto con Mattia, possedendolo, dopodiché Mattia ne combinerà di tutti i colori, anticipando poi quello che sarà il seguito che vedrete in Midway La Possessione. È molto interessante sottolineare che la sceneggiatura è scritta da una donna, da Adriana Marzagalli, che rende il film di una emotività, di una profondità e di una sensibilità, è uno sguardo a 300, una visione a 360 gradi, che eleva il film ad uno stato superiore e non lo relega, non lo confina nel classico film di genere. Accompagnato da delle musiche molto coinvolgenti e molto inquietanti di Luca Balboni. Vi aspettiamo tutti dall'11 aprile al cinema con Midway tra la vita e la morte. Ciao! Mai lasciare organizzare Mattia!